E' Achimede Pitagorico. Ti è messo in crisi. Ti aiuto io, ti aiuto io. Sì, Ligno, aiuto io. Allora, un corpo immerso in un liquido. Un corpo immerso in un liquido. Riceve. Riceve una spinta. Riceve una spinta. Dal basso verso l'alto. Dal basso verso l'alto. Pari al peso del volume. Pari al peso del volume. Del liquido spostato. Del liquido spostato, la sapevo! Ok. In un momento di nebbia. E' fortissimo sto ragazzo. Innanzitutto chiedo di fare un fortissimo applauso alla giuria. Bravi. E soprattutto, voi che siete la giuria, guardate cosa avete fatto. Wow. Abbiamo dato i numeri. Abbiamo dato i numeri. Sì, però praticamente io mi sono riuscita a connettere alla vostra mente. Quindi più o meno anche voi avete fatto qualcosa. Non capite però? Grazie a tutti